Musica Bentornato Guglier, bentornata In questa nuova lezione andiamo a vedere qualcosa sullo schermo In pratica se dovrai migliorare la visualizzazione dovrai prendere in esame la sezione del pannello di controllo denominata schermo A cosa servirà? A modificare le impostazioni di visualizzazione per rendere più leggibile il contenuto dello schermo Se dovessi avere problemi in visione nella lettura puoi attingere a questa sezione per variare alcuni parametri e rendere i valori più compatibili al tuo specifico utilizzo Come accedi? Naturalmente Clicca sul pulsante schermo accedendo alla sezione del pannello di controllo Nella schermata che si presenta a te potrai aumentare le impostazioni delle dimensioni del testo cliccando su uno di questi tre possibili valori piccoli, l'equivalente al 100% medio, l'equivalente a una rappresentazione maggiorata al 125% oppure grande al 150% Qui potrai avere un'anteprima Occhio al pulsante lente di ingrandimento Dopo aver visto questi tre valori ricorda che una risoluzione non adeguata ti potrà inibire di visualizzare una parte dei dati rappresentati sullo schermo Come detto in precedenza c'è il pulsante lente di ingrandimento Questo ti permetterà una volta cliccato sopra di generare in alto una barra nella quale tu avrai in visione una rappresentazione ingrandita della zona dove è posizionato il mouse In pratica si viene a creare una lente di ingrandimento nella quale in questa sezione specifica va ad essere ingrandita la porzione di schermo dove è posizionato il mouse Tramite le impostazioni della sezione che si genera troverai dei dati meno e più con i quali potrai ingrandire la parte con un valore compreso tra il 100% e il 1600% quindi un ampio spettro di ingrandimento Oltre questi parametri nella zona di sinistra trovi altri pulsanti che ti consentono di entrare in altre sezioni per le impostazioni come la modifica della risoluzione dello schermo o cambiare le impostazioni dello stesso nelle quali potrai variare i parametri per il numero di pixel in altezza e larghezza dello schermo A te la scelta di adeguare i valori in base alle dimensioni dello schermo che avrai acquistato Potrai anche impostare l'orientamento del tuo schermo se lo hai posizionato in modo particolare come bloccato al soffitto oppure alla parete Puoi infatti ruotare o capovolgere la visualizzazione di ciò che è rappresentata al monitor In questa sezione potrai selezionare il tipo di risoluzione appena detto e l'orientamento dello stesso ma trovi anche un altro pulsante Impostazioni avanzate che ti consentirà di scendere nel cuore della scheda grafica impostando vari parametri e che potrai testare anche con l'ausilio di programmi specifici relativi alla scheda grafica In pratica potrai installare dei software specifici per quella scheda grafica e in questa sezione potrai trovare una sezione dettagliata fornita appunto dal software della casa madre quindi impostare dei parametri a livello granulare per questa specifica scheda grafica Altra opzione che trovi in questa sezione è la taratura dello schermo ma già è stata trattata nella lezione 110 e il relativo videotutorial come appunto l'opzione modifica testo clear type sempre nella stessa lezione e videotutorial per migliorare come ricordo la leggibilità del testo nel monitor Ultimo pulsante Imposta dimensioni testo personalizzate ti consentirà di variare il valore delle dimensioni dei caratteri digitati con un parametro percentuale e unità di misura relativa ai punti per pollice in pratica si rappresenterà una schermata tipo questo screenshot nella quale potrai variare una percentuale tra il 100 e il 200% ingrandendo così le dimensioni dei caratteri che andrai a visionare dopo aver fatto questa impostazione potrai avere la necessità di riavviare il computer per far acquisire i nuovi parametri Bene Google come sempre andiamo a visionare la parte pratica da start accediamo al pannello di controllo e clicchiamo sul pulsante schermo in questa sezione come detto potrai variare la percentuale di ingrandimento dei caratteri semplicemente cliccando sull'uno o l'altro parametro ricorda come nota che qualora tu impostassi un valore troppo alto potresti perdere parte della visualizzazione di alcuni elementi qui potrai avere l'anteprima man mano che andrai a selezionare il relativo segno di spunta il pulsante lente di ingrandimento ti consente di creare una sezione in alto dello schermo che ti permetterà di ingrandire la visualizzazione della zona dove è di competenza il mouse il puntatore del mouse il valore di ingrandimento che potrai impostare parte da un 100 fino a un 1600% con passi che vanno dal 25 al 400% impostando il 100 puoi vedere che variando su più o su meno l'ingrandimento di questa sezione può raggiungere valori massimi come detto del 1600% naturalmente se troppo ingrandito potresti avere uno sgranamento della visualizzazione quindi ottimizza nel caso in cui ti serva questa lente di ingrandimento per una miglior leggibilità cliccando sulla X potrai chiudere questo parametro altri pulsanti che trovi in questa sezione sono modifica risoluzione dello schermo cosa già trattata quindi ti permetterà di variare le impostazioni dello schermo in base al numero di pixel di visualizzazione oppure regolare l'orientamento dello schermo in senso orizzontale o verticale in maniera normale o capovolta questa opzione potrebbe tornarti utile se tu hai installato uno schermo a parete lateralmente o sul soffitto quindi per mantenere la visualizzazione di quanto riporterai altra opzione è relativa alla taratura del colore già stata trattata nella lezione 110 e al rispettivo videotutorial per cambiare l'impostazione dello schermo ci riproiettiamo nella sezione relativa alla taratura dello schermo quindi passiamo avanti per la modifica del testo clear type ti rimando anch'essa alla consultazione della lezione e il videotutorial 110 terminiamo con le impostazioni dimensioni testo personalizzate dpi ossia tu potrai impostare un valore che parte da 100 fino a raggiungere il 200% per le dimensioni del carattere in percentuali una volta che cliccherai sul valore impostato il pulsante ok farai acquisire questo valore ben definito sarà sufficiente dopo cliccare sul pulsante applica nel qual caso avrai la necessità o di disconnetterti oppure riavviare il computer ma lo potrai anche rimandare come puoi vedere la modifica sarà effettiva naturalmente al prossimo accesso bene ci leggiamo come sempre nella prossima lezione per andare avanti nella descrizione del pannello di controllo ora un forte saluto ciao a presto da gallo e dalla prossima ciao a presto